Sì, potrebbe sembrare una di quelle storie americane, ma non lo è. Almeno non è quella di cui Ahmed avrebbe voluto essere il protagonista. Nonostante in molti paesi come l'Italia l'accesso alle strutture sanitarie sia gratuito, ci sono delle cose per cui c'è bisogno di soldi. Tanti soldi. Ho conosciuto Ahmed più di un anno fa. Abbiamo parlato di innovazione e passi avanti, me lo ricordo, non sapendo però che a distanza di poco tempo muovere un semplice passo per lui sarebbe diventato davvero difficile. E' affetto da una di quelle malattie genetiche degenerative con un nome impronunciabile. Questo problema lo porterà presto a smettere di camminare per sempre. Neanche a me piacciono le catene di video di cui internet è piena, ma se penso che questo piccolo gesto potrebbe riportarlo a vivere serenamente, non vedo perché non dovrei farlo. Con una piccola donazione, in tanti, possiamo aiutarlo. Trovate tutte le info nella descrizione di questo video. Grazie a tutti.